Questi momenti sono momenti di confronto con chi tutti i giorni e quotidianamente affronta e si trova a lavorare nel settore della sanità, sicuramente guardando i dati c'è bisogno di intervenire e per quello stiamo cercando in maniera propositiva di ascoltare e poi portare le stanze all'interno della conferenza zonale e all'interno della conferenza dei sindaci, quindi poi in regione. Per quanto riguarda il PNRR sicuramente sono già stati stanziati tanti fondi per le strutture, quello che manca ancora è che queste strutture poi devono avere il personale adeguato, quindi torniamo sempre lì, c'è sicuramente bisogno di intervenire in questo settore dell'assunzione di medici.